Milan vince e convince e batte 1 a 0 il Sassuolo, ne andremo a parlare in questo video Viene tutto a like, commenti, 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 commenti e campanellina Cosa importantissima che voi mettete proprio per farle Quindi fatele che vi costano poco Con 5 semplici link e 5 semplici costi da fare Rimanete a giornale sul canale a 360 gradi Quindi che aspettate fatele se volete Ditemi la vostra qui sotto nei commenti I tifosi del Milan, i tifosi milanisti e i tifosi del Sassuolo Accettiamo l'opinione di tutti i tifosi milanisti e i tifosi del Sassuolo Accettiamo l'opinione di tutti i tifosi in commenti Adesso vado a dire la mia opinione personalissima in questo video 4 minuti di recupero Allora Milan Sassuolo 1 a 0 Sia primo tempo che secondo tempo dominati dal Milan Che merita la vittoria Ma secondo me poteva provare anche a correre il 0 di più Perché il Milan le occasioni le ha avute Ne ha avute anche tante Ma Consiglio è stato sempre bravo a respingere Il Milan poteva segnare tranquillamente anche 2, 3, 4 gol Per la partita che è stata E ne segna solo uno con Pulisic Comunque Ben Nasser Giocatore importantissimo Nei 6 mesi in cui è mancato Veramente si è sentito E adesso che è ritornato il Milan Ha un peso differente nel centrocampo Veramente straordinario Ben Nasser Che serve una palla Serve una palla incredibile per Pulisic Che tira La alza al punto giusto per fregare il portiere E fa 1 a 0 Il Milan avrebbe potuto segnare qualche golletto in più Che sicuramente sarebbe servito per la classifica E per la differenza Però alla fine va bene così Perché si portano terzi a 36 punti E approfittano della sconfitta del Bologna Di oggi 3 a 0 contro l'Udinese E vanno così a più 5 sul quinto posto A più 3 sul quarto posto E a più 7 sul sesto E ormai Roma e Napoli Si vedono più In attesa che Juve e Roma giochino stasera Il Sassuolo invece è sedicesimo Ha 16 punti Ha soli più 2 punti sulla zona retrocessione Quindi anche loro rischiano E non poco di finire nella zona rossa Un buon Milan Un ottimo Milan Che vince e convince Ma sicuramente Almeno secondo me Poteva farlo con qualche gollettino in più Perché il Milan oggi le occasioni Sicuramente le ha Le ha avute Ma la maggior parte le ha spiegate Bellissimo il gol di Pulisic Su un'invenzione fantascientifica Di Mennasser 1 a 0 Il Milan fa giocare qualche giovane Dibutta il giovane Zeroli Che l'ho visto abbastanza bene Ha fatto qualche avanzata Qualche scorrimanda Niente male Si Vabbè ma lo conosciamo già dal Monza Quando ha segnato Un buon Milan Un buon Milan Un ottimo Milan Ma che sicuramente Deve migliorare Nella fase di finalizzazione Perché può segnare di più Può e deve Segnare di più Più che altro Del resto Ottima prestazione Si votano a casa Tre punti Importantesimi E allungano Ancora di più Sulla zona Champions In attesa Che giochi Juventus Roma Comunque ragazzi Questa è la mia opinione Su Milan 1-0 Sassuolo Se volete Ditemi la vostra Qui sotto i commenti Lasciate like Come selezioni Condivisione Campanellina Cose importantissime Ma che voi ci mettete Poco per farle Quindi fatele Che vi costano poco E con 5 semplici Che 5 semplici Cose da fare Rimendete Aggiornare Il canale A 360 gradi Quindi che aspettate Fatelo Se volete Ditemi la vostra Qui sotto i commenti Tifosi milanisti Tifosi del Sassuolo E non Milan vincente E convincente Che si porta a casa Tre punti Importantissimi Perché ha approfittato Della debacle Del Bologna Di oggi pomeriggio Superlativi Ma L'unico difetto È che potrebbero fare Qualche colletto In più Ciao ragazzi Ci becchiamo dopo Con Chiove Roma